La comunità carmelitana ha ricordato questa mattina presso il monastero di Bocca di Magra la figura del cardinal Anastasio Balestrero a vent'anni dalla sua scomparsa ed in presenza del processo di beatificazione a suo carico. Il momento commemorativo introdotto da padre Giustino Zoppi, padre superiore del convento e vice postulatore della causa, ha ripercorso le tappe principali della vita del cardinale dal suo ingresso nella comunità carmelitana sino alla carica di padre generale dalla sua elezione a Vescovo di Bari al suo lungo periodo alla guida della diocesi di Torino passando per tappe significative della chiesa prima come illuminato padre conciliare e come presidente della conferenza episcopale italiana in seguito. A tracciarne il profilo Don Giuseppe Toninetti delegato vescovile al tribunale ecclesiastico di Torino che ha recentemente concluso i lavori per la causa di beatificazione del cardinale. Ma chi era il cardinal Ballestrero? Il cardinal Ballestrero è stato innanzitutto un grande carmelitano, lui si identificava nel Carmelo, riconosceva nel Carmelo la sua casa dove si è sempre trovato a suo agio. Per questo accettò l'episcopato prima Bari a Torino per obbedienza perché lui era fatto per il Carmelo, però come vescovo è stato un grande pastore. Un uomo di preghiera ma conosciuto anche per la sua grande umanità e l'attenzione alle problematiche sociali. Era un contemplativo immerso in Dio però aveva i piedi per terra, aveva una grande concretezza nell'affrontare i problemi, l'apertura sociale e l'attenzione anche ai casi concreti. Lui aiutava molto così di nascosta le persone, quindi l'attenzione ai problemi sociali della Torino, del tempo del terrorismo ma anche l'attenzione ai singoli casi concreti di persone che andavano a bussare alla sua porta. Lui non chiudeva mai la porta, né i preti, né i laici, né i poveri. Questa mattina è stata l'occasione per rappresentare ai convenuti l'iter della causa di beatificazione. La causa è stata introdotta a Torino il 2 ottobre del 14. Per introdurre la causa si chiedono due condizioni, la fama diffusa di santità e poi la esemplarità della figura. La fama di santità richiede l'osservanza eroica delle virtù cardinali e teologali, fede, speranza e carità e poi l'esemplarità cioè che sia un modello di carmelitano in questo caso e di vescovo proponibile alla chiesa di oggi. Il tribunale ha sentito 93 testi oculari che hanno conosciuto personalmente. Poi stanno lavorando la causa i periti storici e i sensori teologi. I periti storici che costituiscono la commissione storica deve contestualizzare la figura, in questo caso il carmelitano negli anni 40 e 50 e poi delineare la figura spirituale, il profilo spirituale di Ballestrero. Quindi il lavoro adesso dipende dai sensori teologi e dai periti storici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.